Dalla tanna dei lupi è arrivata una sconfitta. La Giorgio Tesi Group, ancora priva di Capitan Figliò, infortunato ma trascinata da un Blackshear più forte del dolore al polso, ha giocato un buon match anche in campagna, ma non ha raccolto punti. Decisivo l'unico break concesso alla Sidi Gassavellino a metà del secondo periodo, un meno 14 che i biancorossi non sono riusciti a colmare nonostante vari tentativi, come quello che a due minuti dal termine aveva riportato la squadra di coach Esposito a meno 6 palla in mano. Punteggio finale 84-76 per gli Irpini che ribalta il più 6 di Pistoia, conquistato nella gara d'andata. Abbiamo giocato una buona partita per le condizioni in cui eravamo, quindi era la partita che volevamo giocare, con qualche distrazione in meno dal punto di vista secondo me difensivo, probabilmente l'avremmo giocato anche proprio punto e punto, però abbiamo vinto il terzo e il quarto quarto con una squadra anche con già un giocatore in meno, un altro che è uscito per 5 falli, qualche giovane da utilizzare, direi che sono contento, sono contento di come la squadra ha giocato. Adesso recupereremo gli infortunati, speriamo di recuperare gli infortunati in settimana. Abbiamo fatto una partita che ci rende particolarmente felici per il doppio risultato, cioè aver vinto, ma soprattutto aver ribaltato poi il meno 6 dell'andata e avendoli a due punti vicino, insomma, c'è una partita di differenza tra noi e loro, questo ci rende contenti. Credo che la prova dei due playmaker oggi hanno veramente messo in ritmo tutti quanti e poi piano piano hanno dato l'apporto veramente tutti i dieci giocatori della squadra.